La compagnia della guardia di finanza di Portici ha sottoposto a sequestro nel comune di Ercolano un'area di 1600 metri quadri e un deposito utilizzato come luogo di stoccaggio contenente oltre 400 tonnellate di indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione. La scoperta dei finanzieri è avvenuta durante un controllo presso un opificio utilizzato come attività di commercio all'ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano privi di igienizzazione e sanificazione. All'interno sono state individuate anche due tonnellate di materiale plastico e varie attrezzature da lavoro. Scoperti altresì 18 lavoratori in nero, quattro dei quali per settori di reddito di cittadinanza, nei cui confronti sono state avviate d'intesa con l'Inps le procedure per la sospensione del beneficio. Denunciati due responsabili, un cinquantenne e un quarantanovenne di Ercolano, per aver allestito il sito senza le autorizzazioni previste dal testo unico in materia ambientale e segnalata l'attività imprenditoriale alla direzione territoriale del lavoro, per l'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi del testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.